Giorgia, in questo forse ricorda anche i grandi, quasi a dire che c'è un distacco, cioè il sottotesto è, attenzione io sono una di voi, sono popolare, i leader della sinistra non li chiamano per nome, è un po' questo il sottotesto, no? Assolutamente, guarda, rivendico la primazia di questa definizione, il voto a Giorgia di oggi ricorda il voto Antonio Di Totò in chiave moderna, in che senso? La definisco una mossa molto populista di una leader molto popolare che finge di non appartenere all'elite quando ormai per ragioni funzionali ne fa parte, però colpisce, e in questo senso è molto efficace, un immaginario collettivo che ormai si è fondato e forgiato intorno a questa idea della politica come avventura di un unico leader al comando. Berlusconi è stato il precursore di tutto questo, è lui il primo che riporta in Italia l'idea del partito personale. Anche Berlusconi lo chiamavano Silvio, peraltro. Lo chiamavano Silvio, esattamente, c'è una differenza però tra i due, intanto anche Berlusconi è stato il primo che ha introdotto il nome sulla scheda, non esisteva in Italia, quindi anche questo è parte di un processo che a destra è iniziato con il Cavaliere. La differenza qual è? Anche questa molto astuta, sia dal punto di vista del capostipite sia dell'erede. Berlusconi diceva agli italiani, si faceva chiamare Silvio, i bagni di folla, io vi rappresento, se voi ce la mettete tutta potete diventare un giorno come me. Il sogno. Fare miliardi, esatto, il sole in tasca. Meloni fa un'operazione diversa, che aveva avviato anche questa in maniera astuta con il discorso programmatico in Parlamento per la fiducia quando ha introdotto il tema dell'underdog, la narrazione dell'underdog, la svantaggiata che viene dal popolo, che esce da, lo dico con rispetto, ma l'MSI era il partito che stava nelle fogne, si diceva ai tempi della contestazione. A sinistra si diceva questa cosa. A sinistra, esatto. Lei è uscita di lì e ce l'ha fatto. Con un paragone anche molto, come dire, aspro, no? Dal quale mi distacco, sia chiaro, ma lo dicevo solo per rispettare la narrazione. Ecco, lei riprende quel filone e dice, io non sono cambiata, io sono ancora una donna del popolo, non è che un giorno potete diventare come sono io, io sono ancora una di voi. Mi dicono Pesciarola, mi dicono Fruttivendola, mi dicono Borgatara, bene, io lo sono. Votate Giorgia. Ne fa un punto di forza. Un punto di forza. Allora, tutto questo dal punto di vista del marketing politico ha una sua efficacia. C'è poi un tema invece più istituzionale che naturalmente invece depone a sfavore di questo processo. Perché? Perché più va avanti la personalizzazione della politica, le leadership sono importanti per carità, e più alligna però l'idea che intanto i partiti non servono più a niente e quindi insieme a questo avanza un'idea populista e antipolitica della politica. Cioè, voto te solo perché sei Giorgia o perché sei Carlo. Finita quella leadership si consuma anche il partito. Guarda, i fenomeni di questi anni lo dimostrano. Abbiamo avuto prima Berlusconi, Berlusconi rimane nella storia del paese, nel bene e nel male. Poi abbiamo avuto una dinamica analoga per Renzi, ce l'abbiamo avuta per Grillo, ce l'abbiamo avuta per Salvini. Adesso tocca a lei. Le leadership si consumano in questa stagione storica con una velocità che in passato non era data in natura. E' l'altra analogia che vi viene in mente.